La pubblica assistenza Procivisi di Gela ha un nuovo direttore sanitario. Si tratta del medico chirurgo Roberto Labbiso, primario dell'unità funzionale di chirurgia della clinica Santa Barbara Hospital. L'insedimento è venuto ieri nel corso di una cerimonia. È un incarico importante di grande responsabilità, di abnegazione. Io cercherò di mettere a disposizione per conto della pubblica assistenza, la Procivisi, la mia esperienza, la mia professionalità. E di conseguenza penso di ricavare da loro ulteriori esperienze per crescere, che cresceremo insieme, nel svolgere questo impegno importante per la comunità, per la collettività, in maniera tale da dare un servizio migliore possibile. Il neodirettore sanitario portava avanti il suo nuovo incarico, proseguendo sulla strada tracciata dal fratello Giuseppe, scomparso mese dietro, assieme al figlio, in un tragico incidente aereo. Io subendo a lui nella speranza di portare avanti un servizio di efficienza come lo portava a lui e di essere all'altezza sua. E nel ricordo sono qua soprattutto anche per un ricordo suo. Luca Cattuti, responsabile della pubblica assistenza Procivisi. La scelta di Roberto Labbiso ricade su un desiderio da parte di tutti i volontari e soccorritori della struttura, che hanno voluto fermemente che fosse proprio Roberto Labbiso a proseguire il progetto che già il fratello, il dottore Giuseppe Labbiso, aveva intrapreso. Ricordo che il medico è stato all'interno della struttura, sin dalla Costituzione, dal 6 dicembre 2002, come direttore sanitario. È stato sempre presente nelle attività, oltre quelle sanitarie, anche quelle di protezione civile. Io ricordo quando metteva a disposizione il proprio aereo, per esempio, per la campagna antincentio, per monitorare il territorio gelese. E tanti eventi che naturalmente hanno lasciato un'impronta indelebile all'interno di questa struttura. Quindi l'augurio a Roberto è quello di non farci mancare, di non farci sentire l'assenza di Giuseppe, ma di essere anche lui qui presente, proseguendo questo progetto importante che abbiamo intrapreso già da tempo e che stiamo continuando e lasciando come impronta cittadina. Si profila un aumento di circa il 40% per la Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani a Gela. A giorni la Giunta Municipale porterà l'argomento in aula consigliare e poi toccherà ai consiglieri valutare l'ipotesi del voto favorevole all'atto. C'è stato modo di confrontarsi più volte sulla questione nel merito e nei costi e siamo convinti fermamente che il senso di responsabilità, maturato dalla consapevolezza che il servizio ereditato non è perfetto e non è adeguatamente coperto, siamo convinti che il loro senso di responsabilità permetterà di adeguare le tariffe per come giusto, rimodulate per i vari settori. Nell'istante in cui noi diciamo, con il senso di responsabilità e siamo convinti che è altrettanta responsabilità per il Consiglio Comunale di approvare una tariffa e quindi un costo reale, così come già poc'anzi diceva il Vice Sindaco, è chiaro che poi è inevitabile. Il piano economico-finanziario per l'anno in corso prevede un costo del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti non inferiore ai 10 milioni di euro. Lo scorso anno l'Aula scelse di non votare l'aumento proposto dalla ne aggiunta del Sindaco Domenico Messinese. Noi oggi abbiamo un livello di raccolta differenziata di grosso modo intorno al 30-35%. Questo è un livello di differenziata che di fatti non consente di avere quei risparmi necessari per ridurre la tariffa. Dobbiamo raggiungere un obiettivo che è quello del 60 almeno del 65% di raccolta differenziata. Solo in questi termini avremo seriamente una scorta riduzione. Per cui ancora oggi continuo a vedere, a verificare, ma lo riscontriamo tutti, che probabilmente o non si ha la necessaria attenzione o non si ha neanche la voglia. Io penso che dovremmo tirare fuori in ognuno di noi la voglia e la volontà. E non solo per un fatto di tariffa o di riduzione di quelli che possono essere 40-50 euro l'anno in più o in meno. Ma il tema è che dobbiamo pensare al futuro di questa città e alla pulizia di questa città. La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Abbiamo messo in evidenza che i costi in aggiunta al capitolato sono dei costi che in realtà servono per coprire l'ordinarietà del servizio progettato in maniera non adeguata e questo deve essere coperto con la tariffa che verrà sicuramente rimodulata. Ma per quale motivo si aumenta? Si aumenta perché i costi del servizio sono alti, sono alti perché di fatti il territorio non sta rispondendo adeguatamente all'aumento della percentuale di differenziata che è un obbligo di legge e che è l'unico modo per attenuare, per ridurre i costi del servizio. E' stato ospite dell'ASD Shatsukindo di Gaspare Sirone, il maestro Arjuna Das, che ha tenuto un seminario di yoga e meditazione, il viaggio dell'anima. Lo abbiamo incontrato. Lei è italiano ma vive da moltissimo tempo in India. Che cosa è stato per lei lo yoga e come si è avvicinato a questa pratica, a questa filosofia di vita? Lo scopo dello yoga, del vero yoga, è riscoprire chi siamo veramente noi, da dove veniamo, dove andremo e che contatti abbiamo con la persona suprema, con Dio. Questo è il vero scopo dello yoga. La cosa molto importante per voi è un'energia che si rinnova e che in realtà vive dentro ognuno di noi. Allora io ho trovato degli yogi malayani nel corso della mia vita in India e diciamo che mi hanno un po' benedetto o potenziato su certe cose. Ma in realtà l'energia non è una cosa che si compra al mercato con un seminario. L'energia viene dall'anima. Quindi tutti abbiamo l'anima. Bisogna imparare solo il sistema per attivarla. E questa energia, come in una casa, c'è un'energia che può fare calore, freddo, illuminare. Ho fatto una ricerca anche a livello di studio. Ho studiato la Bhagavad Gita, che è la bibbia indiana. Ho frequentato vari ashram, ashram vuol dire posti dove ci sono gente che fa vita spirituale. Ho cominciato con Yari Krishna, poi sono cresciuto, ho trovato yogi e pian piano, in accordo il mio karma, perché qua ci parla di karma e di rincarnazione. Sono arrivato a quello che è oggi, che degli yogi mi hanno selezionato, sebbene straniero, a rappresentarli nel mondo. Ho deciso di fare un cammino veramente spirituale. E pian piano, per karma, per desiderio, ho comprato vari maestri che mi hanno poi portato a insegnare secondo le loro istruzioni. Come si svolge attualmente la sua vita? Beh, intanto io sono sposato, ho una famiglia, una mia moglie indiana. In India vi divido il mio tempo tra una missione, dove facciamo progetti umanitari, riconosciuti dal governo, anche la maestate italiana e così via. E nel suo tempo sono sempre dietro alla ricerca di imparare cose nuove. Quindi divido la mia vita in questo modo qua. Se dovesse fare un paragone tra le abitudini europee e quelle indiane, quali sarebbero le differenze fondamentali? Il senso fondamentale è che l'uomo occidentale si basa sull'estetica, sul corpo, sulla mente. L'indiano si basa sull'anima. E lo yoga che ha trovato lei o è lei che ha trovato lo yoga? Tutti e due. Perché lo yoga non nasce in una vita sola. Lo yoga non si intende la ginnastica che certe persone presentano. Lo yoga è medicina, è meditazione, è religiosità, spiritualità, non è. Voi credete nella reincarnazione? Quante volte lei si è reincarnata e in quante vite pensa di aver vissuto? Allora io ne riconosco tre e lo posso dimostrare in mori e mori. Nell'accordo ai Veda, ai terzi sacri indiani, ci sono 8 milioni e 400 mila tipi di corpi diversi. 400 mila sono umanoidi, nel senso che non è solo qua. Ci sono gli UFO, come li chiamate voi, gli angeli, gli accangeli. Quindi dipende dal percorso dell'anima. Cosa hai in mente? Se tu hai un corpo di donna c'è un motivo dietro quello. Se hai gli occhi così c'è un motivo. Quindi non si può calcolare veramente quante, però uno con dei calcoli o con delle meditazioni. Io per esempio posso vedere alcune volte la tua vita precedente. A me quando mi chiedono di che religione sei? Io dico non appartengo a nessuna religione, però rispetto a tutte le religioni autentiche. Allora nella Bhagavad Gita viene spiegato questo sistema. Se lei pensa che Dio ama tutti, però insegna in accordo al tempo e dopo alla circostanza, e Dio dice sempre negli testi sacri indiani, salva d'arma parità, lui dice in Sanche perché sono una lingua antica, no? E dice non è la religione che ti dà la liberazione, è Dio che te lo dà. 20.302 firme raccolte dal vostro comitato per chiedere fortemente cosa? La Bresti Unit subito, cioè praticamente noi con questa raccolta firme e di questo comunque ringraziamo tutta la cittadinanza e anche il territorio che si è subito attivato per questa raccolta. È un momento importante perché praticamente dopo la raccolta noi chiederemo alle varie istituzioni che erano scritte nel foglio che abbiamo sottoposto alle persone, li metteremo al corrente dei risultati di questa raccolta e chiederemo subito l'attivazione di questa Bresti Unit. La prima tappa sarà il tavolo del dottore Iacono? Sì, l'ADOS ha già inviato una richiesta di incontro urgente al dottore Iacono. Speriamo che questo incontro venga fatto in tempi brevi considerando anche il fatto che non c'è necessità di risorse economiche importanti ma c'è solo la necessità di un'organizzazione e di un servizio che peraltro funziona molto bene già da 14 anni. Dietro queste oltre 20.000 firme ci sono oltre 20.000 storie, ci sono storie di donne che hanno subito un intervento, ci sono i familiari di queste donne e ci sono anche delle donne che attendono invece di avere l'assistenza di una unità di senologia complessa. Sì, questo è vero perché noi siamo intanto testimonial perché siamo stati operati noi, per esempio io 16 anni fa dal dottore Di Martino ed è da 16 anni che noi facciamo questa battaglia per poter avere un'unità di senologia complessa. Ancora oggi noi abbiamo camminato sempre con il dialogo per poter avere il tutto però fino a oggi non ci siamo riusciti. Siamo arrivati a un punto che entro il 2016 se non si formano queste breast unit, noi rischiamo che nell'ospedale di Gela la mammella non si può operare più. C'è stata una popolazione che si è mossa solo ed esclusivamente perché ha capito il reale problema, cioè ha capito che è un problema che può incidere su qualsiasi donna, per cui si è sentito vicino nell'operato che la nostra manifestazione praticamente andava incontro. Le firme non sarà solamente un cartaggio che sarà riposto fra i nostri archivi, bensì sarà un'arma con cui noi possiamo andare a combattere una battaglia molto forte. Anche Gela ieri ha promosso la giornata mondiale della rifugiato, incontro tra musica e folklore nel cortile di Palazzo Pignatelli. Una tavola rotonda dal titolo Comunità aperte e solidali per un futuro condiviso ha visto la presenza di numerosi relatori. C'era anche l'assessore comunale ai servizi sociali Ligia Abela. Altri momenti sicuramente si ripeteranno nel corso dell'anno, come per esempio momenti di incontro culturale e linguistico, dove ci sarà proprio la possibilità per noi italiani, noi cittadini italiani, di essere messi in comunicazione con questi ragazzi che inizieranno alla loro lingua e quindi anche alla loro cultura. Un modo pacifico e sereno per una convivenza quanto più bella possibile. Numerosi i temi trattati. La giornata di rifugiato non è la giornata dedicata ai cittadini che hanno un altro colore di pelle, ma è la giornata dedicata all'umanità, cioè a quella che noi spesso annunciamo, che spesso pedichiamo e che spesso, spessissimo, non testimoniamo. Ecco, tu come me vuol dire questo, vuol dire molto altro, diciamo assieme ai bambini della nostra dittà e assieme a tanti lavoratori che ogni giorno sono in contatto con uomini e donne, sicuramente meno fortunati di noi che vengono da tante altre parti del mondo e da lì sono scappate per evitare la morte, chissà tra l'altro come. L'Archeoclub ha voluto contribuire per dimostrare l'apporto positivo che i cretesi e i rodi, i nostri fondatori della città di Gela, hanno dato al momento della fondazione della città e la positività che ne è nata. Ai nostri microfoni due ragazzi di colore, ospiti d'anni in città. Io mi trovo bene qua a Gela, da quando sono venuto qua ho trovato un sacco di amicizia qua a Gela. Ma tu sei fuggito da una guerra? Io posso dire sì perché nel mio paese c'è la guerra, da 2011 fino ad oggi c'è la guerra e per questo cosa siamo venuti qua all'Italia per chiedere asilo politico. Salvo Russello, uno degli organizzatori della giornata mondiale della rifugiato a Gela. Non c'è nessuna distinzione, semplicemente dei ragazzi che vengono da fuori, vogliono integrarsi, si stanno inserendo nei contesti sociali della nostra città, lavorano, fanno tirocini formativi, giocano nelle nostre squadre, fanno attività sportiva. Ormai loro cercano in tutti i modi di dire grazie alla città di Gela perché li ha accolti e perché gli sta permettendo di crearsi una nuova vita. Tornano a far sentire la loro voce gli ex lavoratori dell'indotto di Gela. Questa mattina uno striscione e un manifesto che cita anche la carta costituzionale sono stati collocati dinanzi all'ingresso di palazzo di città dai lavoratori stanchi, demotivati ed esasperati da una crisi che non cessa di imperversare. Ci sono mutui da pagare, figli da mantenere, c'è una vita che scorre e i lavoratori chiedono di poterla vivere dignitosamente. Fanno appello ancora una volta alla politica. Essendo disoccupato già da aprile 2015, chiedendo aiuto anche alle istituzioni, agli organi, anche perché da cittadino onesto, che ce ne siamo cittadini onesti a Gela, io ho chiesto più volte quello che devo fare. Ripeto, questo è un altro tentativo che mi rivolgo appunto sia al governatore che in particolar modo è quello che dovrebbe in un certo qual modo tutelare quello che i cittadini gelesi. È il Presidente del Consiglio perché io preferisco fare una protesta democratica pulita che andare a fare proteste che possono essere contoproducente per la democrazia stessa. Sono uscito dalla raffineria nel 2005 e poi ho lavorato al Tribunale di Gela come nuova costruzione. Però ripeto, qua oggi è la disoccupazione che allarma e io da padre di famiglia, avendo tre figli a carico, devo tutelare i miei figli. Non posso stare inerte o aspettando che scenda chissà che cosa. È il mio dovere da padre appunto cercare di far qualcosa. Ho cercato di sopravvivere andando a disturbare fino a quando c'era mio padre vivo, perché non mi nascondo, mi ha anche sostenuto mio padre. Poi anche la Chiesa, perché più volte ho sempre rivendicato il fatto che la Chiesa è molto vicina a questa situazione e grazie anche al nostro Vescovo e a tutta la Chiesa di per sé che non ci ha mai abbandonati. E questo è da dare un grande elogio perché dà anche quella speranza in più di poter anche combattere, resistere e sopravvivere nello stesso tempo. Siamo tutto l'inderendotto che sta protestando, non siamo tanta gente che stiamo protestando. Le striscioni qua dietro col cartellone parlano chiaro, ci sarebbe pochissimo da dire, però in verità c'è tanto da dire. Io ripeto e ribatto sempre che qua a Gela si dovrebbe stare bene perché c'è la raffineria che dà un bel po' di soldi. Parliamo sempre di compensazioni, parliamo pure delle royalties, i soldi sono veramente tanti. Non riesco a capire, non riusciamo tutti a capire il perché questa città non inizia a decollare, perché i lavori che ci sarebbero da fare in questa città sono veramente tanti, iniziando dall'edilizia, dall'istruttazione alle strade, alle spiagge, al giardinaggio, insomma. Non dovrei essere io a dirlo, dobbiamo tutti capirlo. Quindi noi ora ci stringiamo tutti, tutta l'intera città per cercare di dare una scossa a questo territorio e per cercare di dare veramente figura positiva alla città di Gela perché siamo dimenticati da tutti, da tutti veramente. È stata sottoscritta la convenzione che consentirà ai cittadini gelesi di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti nel momento del rilascio o del rinnovo della propria carta di identità. Hanno apposto la loro firma sull'importantissimo documento nel corso di un incontro dibattito che si è svolto al Club Vela. Il sindaco di Gela è il coordinatore del centro regionale Trapianti, Bruna Piazza. Il fatto che ognuno di noi possa in vita esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi è un tanto un gesto di grandissima libertà e indicativo appunto di questo momento storico in cui ognuno di noi deve poter dire la propria è agevole lavoro in quanto dover chiedere il parere in merito alla donazione degli organi ai familiari di un soggetto che decede. Quindi noi ci ritroviamo a fare una domanda così impegnativa, così difficile, nel momento più difficile perché chiaramente sono i parenti aventi diritto quindi quelli più vicini. Chiaramente è una situazione estremamente stressante, estremamente coinvolgente per cui il fatto di poter trovare che il soggetto che decede ha espresso la propria volontà e quindi sapere qual è la volontà sua, personale, senza che nessuno si debba fare carico di questa responsabilità che è sempre un'interpretazione aiuta, aiuta tanto, solleva le coscienze, ottimizza e rende più rapido il lavoro. I parenti non possono opporre di niego? I parenti per poter opporre di niego devono dimostrare che il soggetto che ha espresso la propria volontà favorevole ha poi cambiato idea perché tutti noi possiamo esprimere la nostra volontà e successivamente cambiare opinione in merito a quel dato perché è successo qualcosa, dico ognuno di noi deve essere libero di modificare la propria scelta ma deve dimostrarlo, cioè o il soggetto lo deve oppure il familiare mi deve dire guardi giorno Tott mi ha scritto dopo quella data, mi ha scritto che non era più d'accordo. È un passo di civiltà per la cultura del dono, già la devo dire che è una importante città che si è sempre dimostrata di essere sempre molto generosa, è la seconda città di fatto in Sicilia. Però con questo documento che si potrà sottoscrivere al momento in cui si chiede la carta di identità direttamente al comune, si libera in quella situazione drammatica che quando si perde un caro di dover pure scegliere proprio per il proprio estendo che non c'è più. In questo modo uno libera i propri cari da una scelta che a volte è penosa ma che in realtà è una scelta generosa e quindi in questo modo riusciamo a togliere da quell'imbarazzo che è che mantiene ancora, vuole trattenere il proprio caro ma sa che non c'è più nulla da fare, invece ognuno così può scegliere per se stesso. Quest'opera è dovuta soprattutto alla commissione del Consiglio Pastorale che dopo i festeggiamenti della ricorrenza del mio 50esimo hanno voluto fermare l'attenzione un po' sui fatti salienti della mia vita. C'è un aneddoto particolare che vuole raccontarci in questi 50 anni di sacerdozio? Ma sono parecchi gli aneddoti, io per esempio ricordo sempre con grande commozione e grande soprattutto partecipazione nel mio soccorso in Irpinia con i terremotati e soprattutto quando siamo stati incaricati a seppellire i morti nel completo silenzio e nella completa solitudine lì nei monti dell'Irpinia, San Gregorio Magno, Muro Lucano e ci hanno incaricato per poter noi, io con i volontari che ho portato da Gela, allora ero a Bacchitella, a un certo momento abbiamo fatto questo servizio con grande silenzio e siamo ritornati a Gela dopo il Natale perché abbiamo fatto il Natale con i nostri fratelli terremotati. Lei ha operato a Gela anche in un periodo difficile, ci riferiamo alla fine degli anni 80, inizi 90, quando scoppiò la guerra di mafia. Di quel periodo cruento di Gela cosa ricorda? Ma io ricordo la tensione e anche le lacrime della Chiesa, soprattutto perché si rivolgeva alla città e la città sembrava sorda agli appelli. Ricordo la lettera che abbiamo fatto nel 1987, precedentemente la marcia con il Vescovo Cirincione, l'allora sindaco Vincenzo Giunta e noi abbiamo voluto svegliare la città dicendo le inadempienze, i ritardi e il pericolo del domani. Purtroppo quel domani si è verificato ed è successo. Il vento è cambiato? Sì, ma è terribile proprio perché c'era questa situazione dove si vedevano le realtà che andavano a finire a questo eccidio terribile, io lo chiamo, della città e soprattutto dei nostri giovani, soprattutto per quanto concerne anche tutta la sparatoia che c'era alla sala giochi, c'erano i nostri ragazzi. In conclusione, cosa le ha dato Gela in questi 50 anni? Cosa lei ha dato alla città? Allora, Gela mi ha dato la spinta a credere di più nella mia missione, missione di servizio. Io ho cercato di dare questo servizio anche se le aspettative non sono state risposte dalla corrispondenza di tante persone. Cosa voleva allora? Ma io avrei voluto una maggiore, come dicevamo noi, l'appella alla città unita, un maggiore coinvolgimento da parte delle forze politiche, da parte delle forze sindacali, da parte degli operai, da parte di quelli che si lamentavano ma che poi non si sbracciavano. All'unanimità ieri sera il Consiglio Comunale di Gela ha detto sì al piano per il rilancio del centro storico. Il progetto è stato studiato dalle componenti della Commissione Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti e composta da Vincenzo Giurice, Anna Comandatore, Carmelo Orlando e Angela L'obiettivo, assieme alle varie associazioni di categoria presenti sul territorio, tra cui Confcommercio, Proloco, Gelo Centro, Confesorcenti, è quello di avviare una serie di interventi strutturali e non che trasformino il centro in una zona quotidiana di attività e iniziative commerciali a partire dall'apertura domenicale costante di tutti i negozi. È stata pure proposta l'attivazione di mercatini per il rilancio dei prodotti locali. Dovrebbero tenersi alla Villa Comunale Garibaldi, in Piazza Umberto I, Piazza Roma e Piazza Salandra. Altro punto del progetto è quello di agevolare fiscalmente tutte le nuove attività che si insederanno in centro, fino al punto da richiedere l'ampliamento della zona franca urbana proprio a quest'area. Spazio inoltre ad angoli artistici permanenti e a botteghe tradizionali. Dunque si punta al rilancio della salotto della città, che dovrà essere fruito a 360 gradi dai gelesi, ma anche dai turisti. La Proloco, durante lo suo intervento, si è soffermata proprio su questo aspetto. Gela, è stato detto, deve essere una tappa fondamentale per chi vuole trascorrere le vacanze. La città infatti dispone di bellezze archeologiche che non hanno uguali ed un mare straordinario. Bisogna soltanto valorizzarli. Di turisti in città se ne vedono pochi, in effetti. Le nostre telecamere ne hanno immortalato due. Si tratta di una coppia di sposini. Lui è un ristoratore, lei un estetista. Arrivano dalla Russia. Grazie ad un amico gelese, i due ragazzi si trovano a Gela da qualche giorno e della città, baciata dal mare, ne sono rimasti affascinati. Siamo venuti qui per visitare Gela, perché è una città bellissima, che si trova in Sicilia, dove c'è il mare bellissimo, dove si mangia molto bene, quindi vogliamo conoscere cultura meglio. Ma per quale motivo proprio Gela? Perché i nostri amici sono stati già a Gela e sono rimasti molto contenti e hanno detto che è una città bellissima. Cosa avete già visto di Gela e cosa vi è piaciuto? Mi piace tutto e anche è molto bello hotel dove siamo rimasti, che è molto particolare. È piaciuto il mare, persone molto amichevole. Noi siamo venuti qui e subito abbiamo sentito caldo, quindi c'è la differenza, quindi noi stiamo pensando di passare tutti questi giorni al mare. Ma avete saputo che Gela è una città greca che risale a 2700 anni fa e che possiede tanti reperti? Sì, ma sentiamo questo. Sono venuti per vedere meglio questo paese. E cosa porterete di Gela in Russia un giorno? Sì, pasto, umore bellissimo, dopo una vacanza a Gela e vogliono portare anche un po' di prodotti locali, prodotti tipici siciliani. Suorenza, oggi l'Istituto Suor Teresa Valse di Machitella ospita un importante seminario e voi, in virtù dell'accoglienza, date vita anche a questi eventi. Sì, sì, la nostra casa, mi piace dirlo e ripeterlo, è sempre aperta e laddove è possibile diamo ospitalità e facciamo sentire a casa perché questo è e vuole essere il nostro stile. Poi con questo gruppo noi partecipiamo perché sono stati realizzati i progetti sia alla scuola primaria che alla scuola dell'infanzia e tutto questo naturalmente ha dato qualità anche al nostro POF, alla nostra offerta formativa e di questo ringraziamo tutti coloro che naturalmente ci danno la possibilità di interagire e di collaborare. I punti di forza di questo incontro di oggi consistono nel provare ad orientare l'attività dei nostri operatori verso livelli metodologici più avanzati. Il Ministero della Salute suggerisce alla Regione siciliana, già da qualche anno, di adottare una modalità di progettazione delle attività di prevenzione che sia diversa e che sia metodologicamente più avanzata. Questo modello di progettazione si chiama PCM, Project Cycle Management, ed è stato già utilizzato in molte regioni d'Italia, in particolare in Veneto. La Regione Sicilia sta partendo con un po' di ritardo, però adesso questa progettazione diventa di fatto obbligatoria per tutti i nostri operatori sanitari. In questa scuola noi abbiamo fatto due progetti che riguardano la sicurezza negli ambienti di vita, uno nella scuola primaria chiamato Progetto Giochi Sicuri e l'altro nella scuola dell'infanzia chiamato Sicurezza Domestica. Praticamente è importante che anche questi progetti vengano adeguati secondo questo nuovo modo di interpretare quello che è il modo di operare in sanità pubblica. Grazie a tutti.